Una nuova puntata di Cronache e Commenti, le voci del Consiglio regionale, tanti gli argomenti toccati anche nell'ultima seduta del Parlamentino Toscano. Andiamo a vedere i titoli dei temi principali toccati in questa ultima seduta. Cessate il fuoco a Gaza, il Consiglio regionale approva una mozione all'unanimità. Il punto sul trasporto pubblico locale, la maggioranza evidenzia gli investimenti, l'opposizione attacca. No alla privatizzazione di poste, approvata una mozione del PD, astenuta la Lega, contrari i fratelli d'Italia. Presentato il libro su Donatino Lardito, un vero e proprio mito nella storia della giostra del Saracino e del Paglio di Siena. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione per il cessate il fuoco a Gaza, presentata da Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle ed emendata da Francesco Gazzetti. Il documento impegna il Presidente Gianni a chiedere al Governo di mettere in atto tutte le iniziative utili ad attuare un processo di pace in quella regione, in pieno spirito dell'articolo 11 della Costituzione. Questa mozione che avevamo presentato più di un mese fa, ringrazio anch'io il Partito Democratico nella figura del consigliere Gazzetti che ha fatto da pontiere per trovare un testo che fosse condivisibile e infatti ho accettato i suoi emendamenti proprio per trovare un testo il più scarno possibile che però ci trovasse tutti d'accordo perché le immagini di dolore di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse a riguardo. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliere del Movimento 5 Stelle Noferi che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Amasa a ottobre e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessato il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. Per fortuna il Consiglio regionale non si è diviso su questa questione, anzi ha in maniera unanime unito la propria voce a tutti coloro che chiedono una risoluzione per quello che sta accadendo in Medio Oriente. La risoluzione ovviamente per quanto ci riguarda è soltanto un invito perché il Consiglio regionale ovviamente non dipende dal Consiglio regionale il cessato del fuoco in Palestina ma da oggi in poi anche il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessato del fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che viva Dio da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. È evidente che Israele ha diritto e dovere di esistere, la Palestina è uno Stato che ha diritto e dovere di esistere deve essere riconosciuto, serve di riconoscersi tutti quanti nel messaggio del Papa che chiede un cessato del fuoco che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Nell'ultimo Consiglio regionale si è anche fatto il punto sul trasporto pubblico locale L'assessore Baccelli ha rivendicato i 630 milioni investiti sul tema ogni anno 300 di questi solo per il trasporto su gomma Le opposizioni hanno invece richiesto approfondimenti e non hanno mancato di evidenziare ritardi e disservizi A margine della seduta si è svolto anche un incontro con il Parlamento degli Studenti della Toscana il Comitato Pendolari-Valdarno e il Movimento Consumatori La Regione Toscana investe 260 milioni l'anno per il servizio regionale ha firmato un contratto nel 2019 che prevede la fornitura di 100 treni nuovi ne sono già arrivati 50 ma prevede anche il miglioramento degli standard di qualità del servizio invece stiamo assistendo ad un deterioramento ad un tornare indietro La Giunta, il Presidente e l'Assessore sono impegnati a rivendicare il rispetto del contratto e noi vogliamo supportare la loro iniziativa e presenteremo un atto in consiglio perché si apra da parte del Ministro competente così come era avvenuto in passato un tavolo con i gestori affinché si provveda a risolvere le problematiche perché una Regione che investe tutte queste risorse che crede nella cura del ferro, nella mobilità sostenibile ha diritto di avere un servizio di qualità per i Toscani per le Toscane e per tutti quelli che venendo nella nostra bellissima Regione prendono un treno c'è un messaggio che deve arrivare chiaro e tondo a questa Giunta continuare a non gestire e soprattutto a non rimediare a questi disservizi che si creano nel trasporto pubblico locale significa un disincentivare ulteriormente l'utilizzo dello stesso e quindi aumentare paradossalmente il trasporto su gomma e andare nella direzione esattamente opposta che è quella anche della sostenibilità economica di un sistema di trasporti che deve sempre tutelare anche le zone più fragili quindi le tratte meno occupate è un algoritmo talmente semplice che ci meravigliamo che questa cosa non venga compresa si deve intervenire da questo punto di vista garantendo il massimo servizio soprattutto alle fasce degli studenti le fasce più deboli e far sì che ci sia un'effettiva qualità del servizio con un monitoraggio che deve partire dalla Giunta Il 30% della rete ferroviaria toscana non è elettrificata e circa il 50% viaggia sul binario unico una situazione che si protrae da decenni e guarda caso il PD se ne accorge proprio adesso noi siamo da sempre vicini agli utenti che subiscono disagi e disservizi e crediamo che non si possono obbligare i cittadini a prendere i mezzi pubblici quando non ci sono alternative né su gomma né su ferro Devo dire che la nostra regione purtroppo dal punto di vista geografico è di per sé complessa perché si va dall'Appennino alla costa e si va da una zona, un triangolo diciamo che è ben rappresentato anche se con oggettive difficoltà come quella della FIPILI però diciamo che Pisa, Firenze, Livorno è una zona che è servita e che comunque è nell'ambito di un progetto originario che doveva arrivare nel centro Europa le altre zone sono veramente a livello medievale io parlo del mio territorio la Maremma che è ovviamente sia difficilmente raggiungibile su gomma e ancora di più su ferro perché a un certo momento Siena-Grosseto è un qualche cosa di improponibile e lo è ancora di più poi Siena-Grosseto-Siena-Firenze Per quanto riguarda i trasporti in Toscana siamo ancora fermi da un lato abbiamo i treni che non vanno dall'altro abbiamo una gara il trasporto pubblico è stata voluta dalla sinistra Toscana ma che non ha retto di fatto abbiamo intere zone di questa regione che sono state abbandonate pensate a quanti sono i cittadini che usano tram e autobus ecco chiedete a loro se il trasporto toscano funziona abbiamo fatto un giro con i nostri sindaci con i nostri amministratori locali per capire qual era lo stato dell'arte abbiamo cittadini fermi alla stazione e abbiamo persone pendolari fermi alle fermate degli autobus che aspettano ore affinché un autobus passi durante l'ultimo consiglio regionale è stata anche approvata una mozione a firma PD con i consiglieri mercanti e il capogruppo Ceccarelli nella quale si chiedeva al Parlamento Toscano di opporsi alla privatizzazione di poste garantire servizi fondamentali nelle aree interne e salvaguardare i livelli occupazionali sono i punti cardine di questa iniziativa a firma DEM al voto si sono astenuti i consiglieri della Lega mentre hanno dato voto contrario quelli di Fratelli d'Italia abbiamo appena discusso e votato una mozione che avevo presentato insieme al capogruppo Ceccarelli per chiedere al governo di non vendere quote di poste oltre il 50% crediamo che la maggioranza statale sia assolutamente fondamentale è inutile ricordarci quanto poste abbia anche una volenza sociale per i nostri territori oltre che esprimere grande preoccupazione anche per il futuro del personale è un'azienda che ha un asset strategico importantissimo per il nostro paese la più grande azienda di servizi che non può assolutamente perdere la maggioranza dello Stato cosa che invece sembra che il governo voglia fare questa mozione devo dire è stata approvata anche grazie al Movimento 5 Stelle rilevo anche che la Lega alla fine non ha votato contrario ma ha preferito fare un non voto e gli unici che hanno votato contrario è Fratelli d'Italia proprio quelli che quando nel 2016 fu fatta una piccola percentuale di privatizzazione urlavano contro l'allora governo che si trovò come in questo caso a parlare di privatizzazione per abbassare il debito pubblico ecco noi non abbiamo assolutamente fatto un atto dove si dice di non vendere si dice solo di tenere la maggioranza la maggioranza è fondamentale per garantire i presidi sui territori specialmente nelle aree marginali e nelle aree interne su questo noi daremo battaglia a tutti i livelli perché non possiamo permettere che i comuni piccoli i comuni montani i comuni periferici perdono ulteriori servizi come negli ultimi mesi sta succedendo e come come partito democratico lo abbiamo denunciato con forza in tutte le sedi quella appena passata è stata però anche la settimana dove in regione è stato presentato il libro su Donatino Lardito un vero e proprio mito per la giostra del Saracino protagonista di ben 45 edizioni 14 di queste vinte Donatino così veniva chiamato da tutti è stato anche protagonista un binomio che dal 1932 al 1970 ha consolidato uno dei più importanti personaggi dell'arte del palio e della giostra che siano mai esistiti una personalità importante raccontata in un libro 14 lance d'oro la voglia, l'impegno per una comunità perché poi impegnarsi nella giostra del Saracino ad Arezzo vuol dire essere parte viva e attiva della comunità aretina un libro ha sempre la funzione di fermare il tempo di ricordare questo libro tra qualche anno sarà preso da qualche ragazzo sarà letto si conoscerà la storia di una persona impegnata per la propria comunità si può servire mettendosi a disposizione le istituzioni impegnandosi nel terzo settore impegnandosi nelle tante tradizioni e manifestazioni storiche della nostra regione per questo ho accolto l'invito che mi è stato fatto e sono felice che oggi questo libro sia stato presentato in consiglio regionale si celebra un mito per gli aretini e per i senesi è un mito e quindi la prova che attraverso le attività sportive le attività ricreative come sono le giostre i pagli che sono parte molto forte nell'identità di noi toscani si può diventare un mito quest'uomo che ha lasciato un segno importante tant'è che dopo tantissimi anni ancora se ne parla è scritto nell'albo d'oro della giostra del Saracino come dei nomi a cui i giovani fanno tutti riferimento per cercare di superare questo record importante è un uomo che ha dedicato l'intera sua vita ai cavalli e appunto alle revocazioni storiche e diciamo che sono molto felice oggi di fare la presentazione qui perché credo che sia il giusto tributo che celebra anche la grande passione che l'autore Roberto Parnetti ha per le manifestazioni storiche al quale dedica veramente tutto il suo tempo sono Roberto Gallorini sono nipote di Donato Gallorini detto Donatino che lui ci teneva tanto a questo appellativo a questo nome sì, di fatto è un libro che ripercorre delle gesta sia per quanto riguarda il Saracino sia per quanto riguarda il Palio di Siena infatti mio nonno ha corso entrambe le giostre il Palio non ha mai vinto ma ha partecipato a nove edizioni mentre per quanto riguarda il giostre del Saracino ha vinto 14 lanci è stato il secondo più grande giostratore di tutti i tempi e lui ha due record perché di fatto ha vinto a 57 anni come Fantino più vecchio una giostra del Saracino e ha corso a 60 anni quindi era il 1970 l'ultimo Saracino marcando un bel 5 e lì infatti mi ricordo mi ha detto mio padre che consigliò di diciamo smettere con un 5 quindi per coronare questa carriera giostresca questo è un doveroso omaggio a uno dei più grandi cavalieri aretini che hanno scritto pagine importanti della giostra del Saracino di Arezzo lui ha corso dal 1932 al 1970 45 edizioni già questo è un dato che è un record ha vinto 14 lanci d'oro e è secondo nell'albo dei giostratori più vittoriosi di Arezzo e ha corso anche nove pali a Siena è una cosa particolare perché giostra e palio sono due manifestazioni completamente diverse Cronaca e commenti si conclude qui ci vediamo alla prossima puntata che ovviamente sarà in corrispondenza con il prossimo consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti.